Un saluto a tutti gli sportivi di Sport a chilometri zero basket. Caro Antonio, poche parole, un minuto, dammi un minuto per commentare la partita a cui abbiamo assistito. Diciamo la prima partita dopo sei mesi di inattività anche per noi. James con la basket Arezzo ha condiviso un allenamento partita con il basket Perugia. Insomma, un riprendere, un'attività agonistica. C'era molta volontà da parte di entrambe le squadre di ben figurare, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista fisico. Diciamo che nel corso della partita abbiamo assistito a quarti molto interessanti. I primi da pannaggio di Arezzo, i secondi con un Perugia più volitivo, più forte e a volte fisicamente più reattivo, soprattutto nella parte finale. Certo è che queste partite, questi match, questi incontri, questi amichevoli sono la giusta prova per uno step di crescita tecnico-agonistica e fisica che le squadre cercano, come del resto è successo nelle partite del weekend, non so, a Firenze tra Virtussi e Olimpia Legnaia, come quella tra Aliana e San Giobbe Chiusi, insomma quella tra Costone e Vismedri-Costone e Castelfiorentino a Castelfiorentino. Insomma prove tecniche di campionato. E allora Antonio, in attesa delle prossime amichevole, auguriamo buon basket a tutti.